Presentato ieri presso la BCC di Monte Corvino Rovella il progetto Yes i Startup, progetto a cui il Comune ha aderito per formare in maniera totalmente gratuita i giovani all'autoimprenditorialità. A spiegare nel dettaglio il progetto il consigliere delegato alla formazione Nello Di Pasquale e la direttrice di Picentini Network Maria Volpe. Grazie a questa programmazione di cui abbiamo discusso già in campagna elettorale a poco più di 40 giorni dal nostro insediamento riusciamo già a partire con un programma rivolto ai giovani, un corso di formazione di 80 ore che preparerà i giovani ad un'autoimprenditorialità. Questo corso tra l'altro darà diritto a 9 punti formativi per un progetto in Vitalia e chi parteciperà al bando in Vitalia quindi riuscirà ad avere una formazione maggiore e ci saranno fondi per 50.000 euro in conto capitale e 50.000 euro per le spese. Quindi noi pensiamo di fare una cosa buona per la nostra comunità, di risolvere qualche problema sul nostro territorio dovuto all'allontanamento dei giovani che non hanno sbocchi lavorativi. Infatti questo corso è destinato a ragazzi fino a 29 anni che non lavorano e che non frequentano scuole o altri corsi. Solo due campi sono fuori dalla possibilità di finanziamento. L'agricoltura e la pesca perché vanno sui PSR, quindi agricoltura. Tutti gli altri campi, quindi tutte le altre attività, sono finanziabili da Invitalia. Partiamo con un progetto che guarda alla formazione, quindi all'accompagnamento perché molte volte esistono i fondi. Uno, i ragazzi non sono informatici perché c'è poca informazione rispetto veramente alle possibilità che i fondi europei danno e mettono a disposizione dei giovani. Secondaria cosa, il secondo problema è che molte volte i giovani non hanno veramente calibrato un'idea, hanno un sogno. I giovani devono sognare, devono aspirare, avere aspirazioni importanti soprattutto riguardanti quelli che possono essere il loro futuro lavorativo. Questo percorso serve proprio a cercare di calibrare l'idea, a verificare se ci sono le condizioni di sostenibilità economica al fine di diventare poi un'azienda reale. Quindi gli step fondamentalmente sono tre, la presa in carico del giovane, la valutazione dell'idea, la validazione dell'idea e la redazione del business plan. Dopodiché tutto questo passa allo sportello Invitalia, di cui sono nostri partner, sia lo sportello Invitalia del comune di Teggiano e sia lo sportello Invitalia del comune di Eboli, prenderanno in carico i ragazzi per il finanziamento di 50.000 euro, che è una linea di finanziamento promossa da Invitalia per la creazione di impresa.